Era un pomeriggio come tanti altri insieme ad alcuni amici, così un gruppo di ragazzi aveva deciso di trascorrere una giornata all'interno dell'impianto delle piscine Florida ad Arezzo. All'improvviso si è trasformato in un incubo, un ragazzo di 21 anni di origini straniere è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua, si era appena tuffato da un trampolino. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal bagnino e dal personale dell'impianto che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica ed è stato allertato il Pegaso. Il ragazzo che sembrava aver anche ripreso conoscenza è stato poi trasferito con l'eli soccorso all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso a causa delle sue condizioni. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilevi del caso e per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto e se ci siano stati fattori esterni che hanno potuto influire sul malore del ragazzo.